Ho cercato un modo trasparente per dare questa risposta. L'importante è che sia chiaro ai cittadini che noi daremo a tutti coloro che hanno diritto la casetta per dare vita alle comunità e risposta ai bisogni delle persone. Uscirà a ore l'ordinanza per le scuole, ricostruiremo delle scuole nuove, adeguate a rendimento energetico e credo che questo sia un messaggio molto importante. È uscita l'ordinanza per la ricostruzione delle imprese perché i nostri riferimenti fondamentali sono lavoro e imprese e occupazione e scuola.